Siamo in pieno autunno, come stanno andando le presenze qui a Gambari? Allora, è un bellissimo autunno, il clima è veramente gradevole e questo favorisce le presenze nella nostra località. In più, tutte le iniziative che sono state create per la valorizzazione dei prodotti locali stanno facendo in modo che tantissimi siciliani e anche reggini ci raggiungono e trascorrono il weekend nella nostra località. Questa volta si dice che non c'è il turismo nelle nostre parti, non è così. In questa area di montagna, come la Spromonte, ci sono tante presenze. Sì, il nostro è un turismo regionale. È chiaro che se vogliamo puntare a dei turismi che destagionalizzano e attraggono anche persone da fuori, bisogna curare tanto i servizi. Noi cerchiamo di farlo come privati e anche il pubblico sta cercando di darsi una mano. Però è chiaro che, per esempio, la mancanza della seggiovia per noi è un grosso handicap. Quindi, se non ripartiamo dalla ricostruzione della seggiovia qui, che parte da Piazza Mangieruca, il turismo, non possiamo parlare di turismo. Vabbè, ora si va alla stagione invernale con la neve, quindi si prospetta una buona stagione? Sì, si prospetta comunque una stagione perché la maggior parte delle persone vuole la presenza della neve per giocare e per divertirsi. Però perdiamo la fetta degli sciatori dove, per poter andare a sciare, si devono spostare sull'altro versante e raggiungere le altre piste. È importantissima questa seggiovia che parte dalla nostra piazza principale. Parliamo di cucina, siamo nel clou dei funghi porcini, qui la fate da padrone. Ecco, cosa abbiamo cucinato oggi, preparato per gli ospiti? Sì, quest'anno è stata un'ottimissima annata per quanto riguarda i funghi. Sia a fine agosto che adesso stanno nascendo tantissimi funghi porcini e le nostre pietanze principali sono il carpaccio di funghi crudi, le lasagne con i funghi porcini, i funghi fritti, quindi sono tutte delle prelibatezze che facciamo degustare ai nostri ristoranti.